Eh sì, Drive My Car e BB Yeah, quello è il suono del clacson, il suono del clacson che spesso e volentieri si fa quando si passa di fianco ad Angelo Mazzone per salutarlo. Ciao Angelo! Ciao, buongiorno a tutti. Per salutarlo, non per fare altro, per salutarlo. Toccheremo anche il tema ciclisti perché... Non li mettete sotto come... Ecco, te l'ho alzata apposta perché appunto parleremo anche di quello. Tu Angelo, l'altro ieri hai fatto un posto dove dicevi che saresti venuto qua e hai detto e mi toglierò un po' di sassolini dalle scarpe. Noi siamo pronti, un camion fuori pronto di quelli da cantiere per riempirlo quando vuoi, va bene? Poi dopo io e Bea ci passiamo di qua con il secchiello e la paletta e portiamo fuori tutti i sassolini che ti togli. Angelo Mazzone, Milano Segreta, buongiorno Angelo ancora. Milano Segreta è ormai un'istituzione milanese. Eh sì, l'ho diventata, è dal 2014. Dal 2014 fai conoscere, racconti, fai scoprire Milano, no? Esatto, sì, noi ci occupiamo più che altro di sviluppare tour turistici un pochino più di nicchia, che non siano il Duomo, la Scala, facciamo anche quello, ma ci occupiamo appunto di percorsi un pochino più di nicchia. Un esempio, così se posso per capire un po'. Ma, non lo so, te ne posso, la Certosa ad esempio, adesso poi abbiamo preso affare anche di partiere. Quindi non solo in centro ma anche fuori? No, assolutamente. Io poi, questa è una cosa che ci tengo tantissimo, a me piace fare scoprire soprattutto le periferie. Ah, ok. Perché le periferie sono spesso sottovalutate ma sono assolutamente piene di luoghi e di opere d'arte che spesso sfuggono anche a chi ci abita. Tante volte mi capita di avere delle persone che magari vengono in tour con me, che abitano nel quartiere e mi dicono ma pensa, abito qua da tanti anni e non conoscevo la storia di, oh, non conoscevo questa chiesa, non c'ero mai entrato. E praticamente ovunque c'è roba a Milano. Eh sì, è vero. Ma Milano, sai, è molto strano in questo perché io dico sempre, a differenza di Roma, di Venezia, di Firenze, di Napoli, ovunque ti giri la bellezza, cioè è facile, no? Si mostra. Milano in questo è totalmente diversa perché se non hai di base una curiosità, proprio perché è tutto nascosto, è tutto dentro i cortili, è tutto segreto, è dentro delle chiese, è dietro i portoni. Se non hai di base la curiosità per voler davvero conoscere la tua città, non è facile da amare. Milano nasconde la sua bellezza, Milano nasconde la sua bellezza e invece Angelo vi aiuta a scoprirla e a trovarla. Però Angelo è anche uno che la città la vive, io credo che tu sei uno che la vive tanto questa città. Io la vivo tantissimo. Dalla parte all'altra. Da mattina presto fino a sera. Fino a sera, con la tua bicicletta, con la tua copilota, con la tua copilota nel... Sì, con Deva. Come si chiama? Deva. Deva, che è un... È uno Yorkshire. Che marca è? Ah, è uno Yorkshire, è uno Yorkshire, è sempre nel cestino che ti dice vai di qua, vai di là, secondo me ormai è meglio di Google Maps. Mi oriento con il suo sguardo. Infatti, complimenti a Deva. Insomma, vivi proprio la città ed è quello che poi un po' ti fa arrabbiare quando invece si... Secondo te si vede una narrazione tossica, verrebbe da dire, giusto, della città. Assolutamente tossica. Ti ho detto un po' di temi, da quale vuoi partire? Da dove vuoi? Devo dire che mi sono innamorato del tuo modo di tirarti fuori i sassurini dalle scappe quest'estate, quando a un certo punto anche contro la curia ti sei incavolato. Sì. Perché cos'è successo? Ma allora, in realtà... Così rimaniamo ancora legati un po' al tuo lavoro, poi dopo ci allarghiamo. Ma allora, in realtà è una cosa che non è successa adesso, nel senso che è da sempre. Nel particolare, vabbè, io in quell'episodio mi riferivo a quello che sta succedendo in Duomo, perché si sta tendendo, la fabbrica del Duomo sta tendendo a mettere i bastoni tra le ruote a tutte le guide che non fanno parte della veneranda fabbrica. Quindi hanno aumentato il costo dei biglietti, c'è tutta una procedura adesso da fare per entrare, di registrazioni, pagamento anticipato, dei ticket, cioè tutte cose che fino all'altro ieri non esistevano, perché tu andavi lì con il gruppo, bastava prenotare, e entravi e pagavi per quanti erano. Invece adesso è tutto molto più complesso. Sì, che cascata vuol dire poi che tu devi fatti pagare d'anticipo, ma che non è facile, che non è facile, perché la gente dice, non so se vengono, non so se... Assolutamente, questo vuol dire anche aumentare il costo dei tour, e capisci che questo non va bene, soprattutto perché stiamo parlando comunque del Duomo, sì, è vero, ma è comunque una chiesa, per quanto noi la vediamo come luogo d'arte, come monumento, è comunque una chiesa che è giustissimo, attenzione, perché sono assolutamente d'accordo e sono assolutamente a favore del far pagare un ingresso quando si entra, soprattutto in determinate chiese, perché costa. Il punto è quanto me lo fai pagare, perché capisci che se mi fai pagare adesso 15 euro per entrare in Duomo, cioè uno ci rimane un attimino così, no? Costa, forse di meno andare al Museo dello Storio di San Siro, credo, per assurdo, cioè lo sto pensando, quindi insomma effettivamente... E quindi questa cosa secondo me è diventata, ecco perché io poi, sai, la curia, non so chi sia a capo di questo, chi abbia preso queste decisioni... Sì, no, non credo che sia l'arcivescovo che a un certo punto dice alziamo i biglietti di non credo sia direttamente lui, mi auguro, anzi. Ah, vabbè, Angelo sa cose che noi non sappiamo forse, non voglio... No, 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 è che di base mi viene da pensare che qualcosa c'è, entri perché... E appartiene alla fabbrica, a venerata fabbrica, quindi... Sì, 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 chiaro, chiaro, chiaro. Ebbene, insomma, infatti mi avrà colpito appunto questo tuo modo di comunque non star lì ad aspettare, non mandarle a dire, ecco, nel senso... No, no. Bello diretto e le spieghi molto bene, poi appunto questa questione, poi ho sentito che c'erano comunque anche altri tuoi colleghi che hanno mosso queste critiche al sistema... Esatto, c'è stato un... Perché effettivamente qui diventa, da una parte per noi, magari un costo elevato, ma anche per voi una difficoltà del lavoro invece nelle guide turistiche registrate. Anche perché... Aspetta, Angelo, chiamato, guide turistiche registrate, con il patentino e tutto, perché non è che chiunque si sveglia la mattina può fare la guida turistica. Esatto. Lo dico a quelli che mettono l'experience da qualche parte. Sì, ce ne sono tanti, però non lasciamo perdere questo argomento. Sennò poi dopo ti sento troppo antipatico. No, è che... Tu manda avanti Deva, che non ce l'ho detto, capito? E lei che ti bate l'antipatico, mazzone. Però Deva canta carina, capito? Tac, vedi subito si può... Sembra che davvero si voglia fare di tutto per... Ma io questo lo vedo anche quando ho bisogno di prenotare piuttosto l'ingresso a Palazzo X. Cioè, sembra che davvero si voglia incentivare a mandare avanti solo le grosse compagnie. Non voglio fare nomi nello specifico. È come quando si acquistano i biglietti per il cenacolo. Cioè, tu hai mai provato ad acquistare i biglietti per il cenacolo? Vuoi sapere una cosa? Sai che non ho mai visto il cenacolo per quel motivo? Bravo. Non sono mai riuscito ad andare nel cenacolo, ma alla fine non ce l'ho mai fatta. E allora vieni con noi. No, vedi, non ce l'hai mai fatta. Perché? Perché è difficile. È diventata un'odissea. Sì. Perché? Perché? Che praticamente danno in blocco grossi numeri di biglietti a tutte queste grosse compagnie. E quindi tutte le altre guide turistiche, diciamo, più piccole, come me, vengono scartate. Perché ovviamente le grosse compagnie pagano di più, comprano di più in blocco. Un po' come se fossero i biglietti degli aerei ormai. Un po' come se fossero i biglietti degli aerei ormai funzionano un po' così. Alla faccia da piccola e media impresa, mi viene da dire. Angelo, ne abbiamo tanti di questioni, perché poi abbiamo fatto una battuta sulle biciclette, sul fatto che se passate e vedete Angelo è meglio vederlo sulla bicicletta, non come invece Feltri si spererebbe. Ma parliamo anche di sicurezza, che è un altro tema a te molto caro. Del lamento anche generale che c'è un po' in questa città, che insomma, me ne vado da Milano. Milano non è più quella di una volta, ma ne parliamo fra pochissime. Prima ci ascoltiamo un po' di musica. Sto parlando dell'ultima, la nuova, appena uscita da qualche settimana appunto, di Lady Gaga e Bruno Mars. Capolavoro dicono tutti, beh, allora ascoltiamocelo. Sono le 8 e 14 minuti qui su Crystal Radio. Good morning Milano. Lady Gaga e Bruno Mars die with a smile. Lady Gaga e Bruno Mars die with a smile. 8 e 19 minuti e al 331-7853-555 è arrivato un bellissimo WhatsApp che non posso non leggere. Good morning Milano da quella di Bergamo. Oggi vi ascolto con l'ansietta, perché tra qualche ora avverrà ciò che pianifico da mesi. Che cosa? Siete il sottofondo della mattina del mio matrimonio. Che bello, un applauso, un applauso lo faccio. A cancio, a cancio. Un applauso, auguri, 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 auguri allora a tutti quanti gli sposi, gli sposi. E tutto quello che sta succedendo a Bergamo, auguri. Comunque, Angelo, allora, non fatti addolcire da questo messaggio. Perché, ecco, ha visto, ha cambiato che chi ci sta seguendo in vita ha visto che la fisicità ha cambiato. No, ecco. Allora, tema Feltri. Allora, ieri è uscito con questa bella uscita. Sì. Insomma, siamo abituati alle provocazioni. Questa volta forse però un po' esagerata questa provocazione. No, non la definirei. Fabio, una provocazione perché io amo le provocazioni. Io vivo di provocazioni, sono il primo provocatore, ma una cosa del genere non è da definire come provocazione perché una provocazione non può augurare la morte di una persona, chi che sia. Io i ciclisti mi piacciono solo quando vengono tirati sotto, come quando vengono investiti. Cioè, capisci che è una bestialità da dire, soprattutto perché stiamo parlando di persone che davvero ci sono rimaste. È una città in cui è successo. Soprattutto a Milano, perché, appunto, vuoi perché mancano le ciclabili, vuoi perché alcune ciclabili non sono sicure. Ma è quindi fare una battuta del genere veramente di cattivo gusto. Noi una volta abbiamo fatto una puntata, anzi perché poi, tra parentesi, fa qualche giorno ricorre ancora l'anniversario di quel famoso bambino, ahimè famoso, ahimè, Giacomo, appunto, che nel 2011, il 5 novembre 2011 in via Solari, finì sotto il tram proprio, semplicemente per una macchina, postaggiata in seconda fila, che ha aperto la portiera. E a quel punto poi... Terribile, terribile. Non ci vuole neanche pensare. Tu sei uno che la città la vive in bicicletta. Quindi sei uno di quelli a cui Feltri, insomma, ti ho preferito vedere sul pavimento, insomma. Sì, capisci che non... E stiamo parlando di una persona che paghiamo con i nostri soldi, perché non dimentichiamo che Feltri è in regione. Non è più solo giornalista, ma è un consiglio regionale. Cioè, capisci, io potrei aspettarmi una battutaccia, perché la voglio chiamare così, da un X. Da me, da me, da me, che dico una stupidaggine alla radio. Ma da una persona che ha comunque un incarico politico che ci rappresenta, ma mi dispiace, ma non è proprio neanche, non dovrebbe neanche essere concepibile. Però anche qui è dimostrato che sei un po' diverso dagli altri sui social, perché non hai semplicemente fatto il tuo post e l'hai fatto dicendo una bestialità, ma come si fa? Ma poi hai fatto altro, hai scritto una mail. Sì, assolutamente. E hai invitato tutti a mandare la stessa mail. Hai già scritto. Esatto. Cosa hai chiesto in questa mail e come ti hai chiesto? In sostanza le dimissioni, proprio per il fatto che non riesco a concepire che una persona di quel livello, anche perché adesso io non è che voglia sparare su Feltri. Feltri è stato un grande del giornalismo. Negli ultimi anni ci ha abituato a fuoriuscite davvero infelici. Quindi sarebbe il caso che forse questa persona, come posso dire, non vorrei risultare offensivo, ma che ci sia qualcuno che lo faccia ragionare, che gli dia un attimo un fermo, un blocco, perché non si può dire qualsiasi cosa a uno gli venga in testa. La Florida è un bel posto dove andare a svernarmi. Cioè capisco la libertà di parola. Io sono il primo, l'abbiamo detto, l'hai detto anche tu, poc'anzi. A me, cioè, sono uno che non ha peli sulla lingua, però ci sono certe cose che non le puoi dire, non puoi permetterti di dirle, proprio perché stiamo parlando, ripeto, di una persona che è in regione Lombardia. No. E quindi niente, poi ho fatto questa mail, questa mail è diventata virale. perché so che l'hanno mandata, io adesso non lo so, perché mi hanno detto che sono state migliaia di persone. Ecco, questo è un altro tema che volevo capire. I social, insomma, tu sei uno che spesso mi dirai di critica molto, perché passano storie, un racconto tossico della città, insomma tutto questo, ma in realtà è anche un luogo però molto interessante per quello che riguarda la tua community, perché poi in realtà sei molto seguito, ma soprattutto c'è una grande interazione e tu dai molto spazio anche alle testimonianze che ti scrivono. Assolutamente sì, credo di per sé che i social siano appunto diventati tossici, nel senso che qualsiasi cosa uno apra, se vedi sotto, è un continuo gettare fogna ogni giorno su qualcuno, su qualcosa. Proprio per questo io ho adottato la politica di chiudere totalmente, disattivare totalmente i commenti, proprio per evitare anche che persone esterne, che non mi seguono e che non mi conoscono, vengano a gettare la loro frustrazione quotidiana. Quindi ho disattivato i commenti proprio perché preferisco un contatto più diretto con le persone. Certo, i messaggi aperti. Assolutamente. E infatti ogni tanto non arrivano anche lì comunque. Esatto, chi vuole comunicare con me lo può fare tranquillamente scrivendo un messaggio, senza la platealità, perché spesso è di quello che ci si fa forza, la platealità delle persone. E invece no, t'ho fregato, se vuoi scrivere qualcosa me lo dici in privato. Sono io a decidere se divulgarlo o meno. E funziona assolutamente per le belle storie, perché poi la gente ti racconta anche delle cose belle, ti racconta, condivide poi, cioè, condivide con te. Tendo soprattutto a raccontare quelle storie, sì. Sì, come appunto l'altra sera, proprio sulla questione sicurezza. Eh, infatti sulla sicurezza hai fatto una questione, soprattutto partendo da, o credo fosse un influencer, mi ricordo che aveva fatto un posto che parlava appunto che ormai Milano per le donne è invivibile, non si può più uscire alla sera. Sì, c'era questo video. È il video, sì, giusto. Di questa ennesima influencer che si era lamentata giustamente che sul treno gli avevano fatto degli avanzi un po' spinte, che poi anche lì non si capisce. Lei ha detto, tre fermate prima di Saronno. Tesoro, se la geografia è ancora geografia, tre fermate prima di Saronno non è Milano, sei in provincia di Varese. Quindi questi sono saliti in provincia di Varese. Perché metti Milano? Perché metti di mezzo i trasporti pubblici a Milano? Perché va a dire che è interessante, quando tu dici che quelle cose non è che non succedono, anzi succedono e come. E come? Ma dici, è inutile però parlarne tirando in ballo Milano così tanto per... Per ogni cosa. Cioè succede una cosa appunto... Cioè tiriamo in ballo il fatto della sicurezza sui treni, punto. Cioè succede una cosa a Bergamo, a Varese e Milano. Cioè non è che è tutto Milano. A me questa continua narrazione appunto tossica su Milano mi ha stancato, mi ha rotto. Ok? Perché non è possibile. Una città dove sicuramente, ripeto, dobbiamo partire dal presupposto che le città sono delle giungle. Ok? Se tu vieni a vivere in una metropoli, sai benissimo dove stai andando a vivere. E sai benissimo che possono accadere cose. Come accadono. Perché io non è che nego che non ci sia un problema di criminalità. Noi prendendoti in giro, infatti abbiamo fatto un... Sì, ho visto. Abbiamo fatto la stessa immagine del tunnel di stazione centrale. Come la vede Milano da bella da Dio? Ho visto. Che praticamente è un pezzo di favelas. E come invece la vedete è con i cuoricini, gli orsetti e tutto così. Che poi io infatti ti ho detto, non è che la vedo con i cuoricini. Cioè la vedo per quello che è normale stazione. Nel senso che mi fanno ridere anche quelli che mi vengono a dire Milano è diventata pericolosissima. Come le classifiche, no? Che Milano al prima... Ma le leggete queste classifiche? La classifica è data in base al numero di denunce. Non di crimini. Perché non è possibile contare i crimini. In base alle denunce. Anzi, vedendola dall'altro lato, una maggiore, come si dice, un maggior numero di denunce equivale ad un maggior numero di senso civico. Perché vuol dire che si denuncia la qualsiasi cosa. Se non siamo ancora arrivati a quel punto, dici, ma non denuncio tanto, non serve a niente. Ad esempio. E quindi denuncio perché comunque... Devi denunciare. Perché si denuncia. Io ad esempio, ti faccio un esempio stupido. Quando mi hanno rubato più di una volta ormai la bici qui a Milano, io sono andato a denunciare. Cosa che quando vivevo in Puglia non ho mai fatto. Perché, vabbè, dici, me l'hanno fregata. Tanto chi la ritrova. Cioè, è la mentalità. Quindi, se vogliamo, ripeto, vederla dall'altro lato, equivale a maggior senso civico. Poi, ripeto, nessuno dice che Milano non abbia un problema. Come quelli che mi vengono a dire che Milano è diventata, appunto, pericolosa. Milano è sempre stata pericolosa. Ma da sempre. L'abbiamo scoperto solo adesso. L'abbiamo scoperto con i social adesso. Esatto. Perché? Perché c'è questa continua narrazione, questo continuo riportare sempre e solo storie del genere tramite i social. Questo è diventato tossico. E infatti, vedi, pagine come, non voglio fare il nome, che sono diventate... L'ha fatta prima io, mi spiace. ...sono diventate virali in base a cosa? In base ai crimini che riprendono in video. Altrimenti, di che cosa parleresti? Non vorrei fare l'avvocato del diavolo, però effettivamente quella parte... Stiamo parlando di Milano, bella da Dio. Lo possiamo dire, ad esempio. Perché è una delle, perché non è la più famosa, ci sono anche altre che cercano di arrivare in alto. Che cavalcano il trend. Però posso dire una cosa. Faccio un attimo l'avvocato della parte, anche se non hanno bisogno. In realtà, loro, ad esempio, non fanno i video. Cioè, gli li mandano i cittadini. I cittadini continuano a condividere con loro questa modalità. Esatto. Allora, è proprio per quello che dico narrazione tossica. Perché ci siamo abituati a questo genere, a questo modo di vedere Milano. Ok? Allora, se io mando a te un video... Io adesso ti faccio un esempio stupido. Qui fuori, due si menano, no? Io li prendo in video e te li rimando. Sì, non sarebbe neanche una cosa così strana, perché ogni tanto succede. Quindi, è lì proprio di base, capisci, che è sbagliato. Perché questa cosa... Allora, perché questa cosa, questo video che io ti mando di questa cosa brutta, deve diventare virale? E non può diventarlo un video che ti mando di una cosa bella? Perché deve essere concentrato tutto solo sulle cose brutte? Cioè, questa città ha solo dei difetti? Avrà pure delle cose belle se tutte le persone ci vengono a vivere? Perché dobbiamo narrare e raccontare solo quella parte di Milano? Perché ormai è questo che è diventata. E tu dici, queste pagine social raccontano solo quella parte, non c'è spazio d'altro. Mi sembra che ogni tanto... Guarda qua, cosa fanno... No, non fanno vedere cose... Sì, vabbè. No, dici che non basta. Non basta, dici. Ah, ok, va bene. Però, non è tutto rosa, fiori e cuoricini comunque. No, assolutamente no, ma ripeto, non lo è mai stata. A me, ad esempio, scrivono tante volte testimonianze di persone di una certa età che paragonano davvero Milano che vivevano loro degli anni 60, 70, 80, quando in Parco Sempione non ci potevano neanche entrare in tutti i parchi, non ci potevano entrare perché erano veramente off limits, terra di nessuno, siringhe per terra, sappiamo gli anni di piombo, quello che è successo, c'era il coprifuoco a Milano dove davvero non potevi uscire la sera. Cioè, quindi, no, io faccio un confronto e dico, ma davvero? Cioè, stiamo parlando davvero, stiamo mettendo a paragone la realtà di oggi con la realtà che è stata fino a qualche decennio fa? Ah, chissà, se ci fossero i social all'epoca succedeva. Ah, ok, bravo. Un po' di musica e poi torniamo qui sempre con Angelo a parlare anche di quelli che hanno deciso che invece da Milano me ne voglio andare. Continuo a dire che basta, me ne vado da Milano. Eh, vai. Va bene, avete capito di cosa parleremo dopo Jennifer Lopez, On The Floor. Ivano Fossati, la mia banda suona il rock. E invece, che musica suona la banda di Milano Segreta? Che musica suona la banda di Milano Segreta? Un po' di tutto. Un po' di tutto, è una jam session. Sì, è una musica, sì, un po' allegra, spensierata. Allegra e spensierata come appunto, com'è Angelo Mazzone, ma che poi, quando però lo fate arrabbiare, giustamente tira fuori tutto il suo essere pugliese. Oh, ci sono questi qua che continuano, ormai mi ha tirato in mezzo, e continuano a dire me ne vado da Milano. Milano non è più quella di una volta, basta me ne vado. Sì, vabbè. Ma allora, in realtà, anche qui, come un po' il discorso della criminalità, se stiamo a vedere, lo è sempre stata. Sappiamo benissimo che già a partire dagli anni 60 fino agli anni 80, c'è stata la grossa migrazione dei milanesi verso la famigerata Brianza, no? Che si andavano a fare le casette, le villette in Brianza. Perché? Perché Milano già all'epoca aveva un mercato immobiliare fuori controllo, e quindi preferivano investire meno soldi su case più grandi, appunto, andando fuori da Milano. La famosa Brianza velenosa. E' la storia che si ripete sempre, anche qui. Quindi non è che ci siamo svegliati adesso, in questi anni, a scoprire che il mercato immobiliare di Milano è... Che poi, anche qui, in realtà, il mercato immobiliare è impazzito, non solo a Milano. Milano fa un po' da portavoce in questo, ma tutte le grandi città, ripeto, parliamo di grandi città, hanno ormai un mercato immobiliare che è alle stelle. Vivere a Roma è la stessa cosa. Io e i miei, che vivono in Puglia, in un paesino, chiaramente stiamo parlando di un paesino, quindi i prezzi delle case sono totalmente diversi, ma se già dal paesino mi sposto nella città vicina, ovvero a Bari, dove sono loro, anche lì ti assicuro che le case costano tantissimo. Esattamente come Milano, esattamente come a Napoli. Leggevo pochi giorni fa di un articolo di studenti a Napoli che si lamentavano proprio perché non riescono a trovare più stanze a meno di 500 euro. A Napoli. A Napoli, ok. Altra città dove sono stati universitari, quindi insomma... Assolutamente sì. Quindi capisci che è un problema, anche lì, che riguarda tutte le grandi città in Italia, perché poi è un po' uno specchietto per le allodole. Perché poi che cosa succede? Tutti parlano di questa cosa degli affitti sempre in crescita, ma nessuno parla mai dell'unico vero problema di questo paese. E qual è? Il traffico. Ah no, pensavo come diceva Gianni Stecchino. Invece no. Gli stipendi. Gli stipendi che sono rimasti fermi agli anni 90, mentre tutto nel frattempo è andato avanti. Alle stelle, proprio direi. Cioè, capisci? Anche qui la narrazione è totalmente distorta. Perché, ripeto, non è che ci siamo svegliati oggi che Milano è cara. Lo è sempre stata, ripeto, a partire dai milanesi che andavano fuori in Brianza. Semplicemente la storia, si ripete, è sempre stata la stessa. Si può fare qualcosa per ovviare? Certo, assolutamente sì. E si deve fare. Bisogna investire di più sugli abitazioni. A canone concordato. Esatto, sì. Diciamo a canone concordato. Social housing. Bravo. Che a Milano ci sono. Non sono così tante. Dovrebbero essere di più. Ovviamente per cercare di riequilibrare un pochino, diciamo in parte, cosa che non avverrà poi di fatto mai, perché, ripeto, lo è sempre stata. E come tutte le grandi città, il mercato immobiliare è quello, purtroppo. Io stesso faccio fatica a pagare l'affitto come tutti. Abbiamo avuto consigliari comunali che dicevano costa troppo, lo sapevano dove andare a vivere a Milano. Assolutamente sì. Però preferisco piuttosto vivere a Milano e avere tutto, perché ci vivo bene, perché sono innamorato, lasciando da parte questo. Però perché ho una serie di servizi, piuttosto che andare a vivere nel paesino e sicuramente spendere di meno. Poi è giusto che, come si dice, chi ha questa idea lo faccia, ma non per questo devi denigrare l'intera città. Vuoi andare a vivere? Vai pure. Vai. Senti, me l'hai messo da parte. No, non perché sono innamorato. Parliamo anche del fatto che sei innamorato. Poi in un minutino, non di più, perché poi dobbiamo chiudere. Però tu sei innamorato di questa città. E tutto questo amore passa anche in quello che fai tutti i giorni. però, assolutamente. Quindi ritorniamo a Bomma invece sull'Angelo Milano Segreta. Come possiamo fare appunto per contattarvi, per trovarvi? Cosa avete pronto sul piatto magari in queste settimane? In queste settimane, in quei prossimi mesi, ci sono un sacco di percorsi nuovi che non vorrei neanche tanto rivelare. Diciamo che andremo a toccare dei quartieri. Se adesso abbiamo fatto alcuni quartieri di periferia, adesso andremo a toccare i quartieri ancora più periferici. Ancora più periferici. Cioè stiamo parlando proprio... Fino a poi facciamo diventare Milano, andiamo in Svizzera. Andiamo a fare... No, scherzo, però... A me fai come quelli che dicono Oh, qui a Milano non funziona niente. Dove sei? A Lugano. Ma come? No, no, per carità. No, 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 no. Sempre nel territorio di Milano. Proprio perché appunto cerco di trasmettere e di fare vedere proprio di un po' andare contro questa narrazione tossica e di fare vedere che se ci sono milioni di persone che ogni giorno si vogliono trasferire qui, proprio per questo portando il mercato immobiliare alle stelle, perché non ci sono più case, la richiesta è altissima, allora avrà pure dei pregi questa città. Quindi iniziamo a raccontarli, esatto, iniziamo a raccontarli e non... ma questo vale per tutte le città, non solo per Milano. Impariamo a raccontare più le cose belle, a far sopraffare le cose brutte dalle cose belle e forse potremmo vivere un po' meglio, no? Chiedo, domanda. E allora questa domanda la lasciamo a voi, la risposta. Grazie Angelo di essere qui con noi questa mattina. Grazie a voi. Rispondete a noi, ma anche appunto potete seguire Milano Segreta su Instagram ad esempio, ma anche su Facebook, praticamente ovunque, tranne che su TikTok. No, TikTok mi sono rifiutato. Mi si è rifiutato di farlo. Se ce l'abbiamo noi non ce l'ha lui, per sentire come si è ammessi. Sono anti-TikTok. Guarda la mia producer. Va bene, Angelo, grazie mio davvero di essere qui con noi. Grazie a te, grazie alla tua degna accompagnatrice Deva, che è scodinzola in studio, siamo ben contenti di averla qui con noi. Buona giornata davvero, portati saluti anche a tutta la squadra di Milano Segreta che sono estremamente numerosa sul pezzo, come si dice in questi casi. Assolutamente. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui per i saluti finali.